per noi è un motivo di grande orgoglio essere qua per incontrare potenziali nuovi agenti quindi vuol dire che siamo una fase sempre di grande crescita e questo è molto importante per il mercato italiano ma anche per il mercato internazionale ci aspettiamo di continuare a fare quello che continuiamo abbiamo fatto anche l'anno scorso quindi crescita sia sul mercato diretto abbiamo aperto una seconda sete a roma abbiamo incrementato la nostra quota e la nostra presenza su bologna che stiamo per lanciare la nuova apertura di firenze e dall'altra parte anche sul mercato invece del network in diretto e quindi continuiamo con le nostre aperture che saranno questo ci rappresenta in tutta italia oltre 90 conti vento nel 90 shop che permettono al nostro brand di continuare a crescere e rappresentare angle and focus in italia mercato oggi dimostra un po di flessione come vediamo dai dati dati ufficiali chiaramente questo colpisce meno il nostro segmento di mercato che è un segmento medio alto alto però si vede che c'è un po di difficoltà io mi aspetto che nell'orizzonte di 69 mesi questo trend ritorni ad essere molto più positivo rispetto a quanto viviamo oggi l'abbiamo la grande forza di avere un marchio forte ma soprattutto credo che il futuro si basi su chi riesce e questo vincerà chi riesce a dare maggiore qualità maggiore spinta commerciale ma soprattutto stare molto dietro il cliente che in questo momento fa fatica a prendere una decisione va guidato serve molta consulenza e quindi cambierà anche il mestiere dell'agente dell'agente immobiliare proprio per questo prevediamo anche un piano di reclutamento nazionale inseriremo circa 350 agenti tra quest'anno il prossimo anno e quindi diamo appuntamento anche un reclutamento nazionale che sarà il 15 di novembre